Se mi ingrossano le ansie, se ritardo le promesse, se ti ometto le galere, se non voglio parlare, se non voglio parlare, se non voglio parlare Ciao ragazzi, buonasera a tutti, siamo sempre qui, noi di esterni interni, stavolta in interna stranamente, perché abbiamo qua un ospite Io sono Locomotiva e vi parlo qui insieme al nostro Nicola Pressi, ciao Nicola Ciao, grazie per averci invitato, per avermi invitato parlo a nome di tutti Perché parliamo di te, insomma, a nome di tutti, perché questo è un gruppo, si parla di, tu si può definire il frontman, diciamo dai Sì sì, assolutamente L'uomo di fronte, insomma, di Il Branco, che è quindi un gruppo ternano-romano, però voi, tutti e tre ragazzi di terni Siamo nati e cresciuti a terni, siamo tutti quanti nati e cresciuti a terni, in due siamo parenti, perché c'è il batterista che è mio cugino Leonardo, giusto? Leonardo, fa tanto ridere questa cosa, però noi ci teniamo tanto a dirlo E Francesco praticamente è diventato un coniugio a carico e io sono coniugio a carico suo Insomma, quindi più o meno abbiamo dei gradi di parentela altissimi, nonostante solo due di noi siano imparentati Vabbè, una famiglia, diciamo, in musica, quindi meglio di così E, insomma, come mai Il Branco, perché questo nome, come è venuto fuori e ormai, come sapete, siete alla ribalta nazionale Insomma, so anche dell'esperienza dei castelli romani, volevo chiederti, insomma, nell'esperienza del primo LP, il vostro nome e il vostro primo contest, vero? Allora, noi ci chiamiamo Il Branco perché a me personalmente è sempre piaciuta l'idea di collettività Di fare qualcosa insieme, cioè di dare il mio contributo insieme al contributo di altre persone E di creare qualcosa che sia più grande l'idea al quale, tra virgolette, sottostare Sottostare nel senso buono, chiaramente Stare sotto Esatto, stare sotto proprio dal latino, stare sotto Sub-stare In realtà ci chiamiamo Il Branco perché Il Branco è, nella grammatica, un nome collettivo, un nome singolare, collettivo E che, nonostante la sua singolarità, esprime una pluralità di elementi E ci è piaciuta questa idea, credo di averla partorita io in un flusso di pensiero insieme a Francesco Avendo partorito dei nomi anche abbastanza bruttini, sono sincero Tipo dai sparacene uno Ma adesso non me lo ricordo, tipo nomi femminili, a caso Chiamiamoci Rebecca Oppure chiamiamoci Audiolibro Audiolibro? Ma è una roba brutta, insomma, a un certo punto stavamo veramente delirando per il nome Invece, in realtà è venuto fuori Il Branco e ci è piaciuto subito Immediatamente ce lo siamo tenuto stretto, stretto, stretto E poi niente, il futuro dopo il nome, quindi il recente passato Esatto, il primo LP e il vostro izzi Nel giro di pochissimo tempo, di veramente due o tre mesi, abbiamo scritto forse 30 canzoni, davvero 30 pezzi E abbiamo cominciato a suonare nel tarda primavera estate di due anni fa Così, in duo, in acustico e quant'altro Ma ancora stavamo rodando, rodandoci A un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di chiamare un altro elemento, la batteria Che però non fosse un batterista, ma fosse un elemento con il quale condividere Quindi Leonardo è arrivato dopo, diciamo Esatto, Leonardo è arrivato due mesi dopo la nascita del Branco Io sapevo che Leonardo stava annusando la batteria Anche se è un ottimo chitarrista Annusando da membro del Branco Esatto, esatto, è tutta un'onomotopeia figurata, diciamo E niente, praticamente Leonardo ha accettato, noi siamo stati ben contenti, ci lo teniamo stretto da sempre E niente, abbiamo incominciato a fare, a registrare I pezzi che tra i tanti pezzi che avevamo messo su carta e su un nastro, tra virgolette Abbiamo incominciato a prendere i pezzi che avevano più urgenza di essere registrati e di essere mandati in giro E abbiamo fatto il nostro primo EP, omonimo, che si chiama Branco E da lì abbiamo incominciato a girare tanto, a fare un sacco di live e a diventare sempre più esauriti, tra virgolette, nel modo più felice Sì, tra l'altro, insomma, quello che si vince, insomma, ascoltandovi è la particolare cura per i testi, insomma, che fa Francesco So anche che siete arrivati in finale per il premio inedito, insomma, nel 2016 Quindi, cioè, citerete particolarmente Infatti, ho letto dalla recensione di Andreozzi che dice Il Branco è un gruppo che non fa sconti all'esistenza Quindi, diciamo che il vostro è quasi un non-sense, però con molto sense, si può dire così? Sì, si può dire, guarda, in realtà si può dire come vuoi Perché siamo molto, molto affezionati all'interpretazione che le persone danno Non c'è una verità assoluta Diciamo che c'è un'interpretazione che tu dai quando ascolti il nostro testo I nostri testi, le nostre canzoni, chiaramente E se tu hai preso questo, hai interpretato in questo modo, noi siamo solo che contenti Perché è stata una tua interpretazione, una tua chiave di lettura Io ci provo, insomma, da ascoltatore Abbiamo un compagno, insomma, secondo me è un pezzo, è un brano che andrebbe portato avanti E adesso, come LP, ultimo che c'è, non ci resta che il sorriso, giusto? Non fate caso al sorriso Non fate caso al sorriso che è uscito a gennaio, il 20 gennaio Abbiamo fatto un release party a Roma al Wishlist Club E due settimane dopo qua a Ternia, al Mishima E sono state due date veramente belle Piene, piene, piene di gente Siamo stati contentissimi Queste due date, ovviamente, sono state accompagnate da altre, boh, credo 30 date Una cosa del genere Dove c'era un sacco di gente Siamo stati molto, molto contenti Abbiamo davanti a noi altre tante date Infatti per il futuro, che so che anche siete presto a Terni, insomma Quando è? Il 20? Siamo il 20 di aprile all'Opificio Quindi con gli amici di Efebbi a Urto Con gli amici di Efebbi a Urto, infatti, che ringraziamo Sì, anche noi ringraziamo perché è tanto che facciamo collaborazione con loro Ma perché da Ternano io Efebbi la conosco da quando incominciavo a prendere il motorino Efebbi portava gli ospitoni, portò i primi after hours, mi ricordo gli ARC addirittura Insomma, niente, abbiamo organizzato questo live insieme a un altro gruppo Ternano A cui siamo molto affezionati, che sono Majakovic E niente, il 20 aprile ovviamente invidiamo chiunque Ternano e non A venire a sentirci a noi Majakovic Allora, perfetto, grazie Nicola Grazie a tutti che ci hanno ascoltato di Esterri Interni E se dovete comprare un buon venile Insomma, ripeto il nome del vostro ultimo LP Non fate caso al sorriso Ci vediamo il 20 e per chi ci ascolta ogni lunedì dalle 18.45 alle 19.30 Esterri Interni per Radiofonica Grazie a tutti su www.radiofonica.com Grazie a tutti